l'attività preeminente un giorno di agosto nel caldo spietato della masseria teresa aveva conosciuto la vera amicizia successe quando nicola con una camicia di seta lavata e stirata di recente ma indelebilmente macchiata di un opaco colore rossastro si avvicinò alla masseria era il pigmento delle cave terra rossa come carne cruda laddove le ruote dei camion la solcavano terra che quando batteva il vento caldo si levava in rosse nubi di polvere o diventava fango quando la pioggia la colpiva rosso era il colore degli scavi che macchiava il pelo dei cani e gli abiti e la pelle dei contadini macchiava le loro case e ricopriva le stalle di lamiera ondulata della masseria gli uomini che lavoravano nelle cave sembravano ragni perché solo dei ragni avrebbero potuto tessere la tela degli scavi che succhiavano la terra nicola accostò la macchina sul ciglio della strada e si giugò il sudore lungo il bordo del cappello e guardò il viale che portava la masseria era il nuovo capo delle cave e per la prima volta era stato invitato a pranzo nel podere dove si diceva che teresa la figlia del padrone cucinava la zuppa di verdure alla calada in un piatto grande quanto una fruttiera il cappello proteggeva i capelli di nicola fitti ricci di color miele selvatico dallo spietato clima delle cave la barba si era schiarita fino a un giallo pallido e gli anni l'avevano striata di fili d'argento anche la pelle era scura cotta come la crosta del pane e solo la cicatrice sulla guancia nel punto in cui anni prima era scoppiato il fucile da caccia era di un bianco porcellana nicola bussò al podere e gli aprì teresa che rimase subito colpita dal magnetismo di quell'uomo in breve tempo tra loro nacque un sentimento che non era amore e non era nemmeno amicizia ma era quando l'amicizia è forte e pura è un'amicizia d'amore la frase del cenacolo umanità in movimento che finora non ha mai pubblicato le sue comunicazioni nemmeno privatamente l'attività preminente di questo cenacolo consiste negli effetti fisici grazie a tutti grazie a tutti